Siete pronti per ripartire con il Vole Piemontese? Non vi resta che sedervi comodi e sfogliare con noi il numero 34 di Piemonte Vole Online. Questa settimana vi raccontiamo come sono andati i sorteggi dei gironi dei campionati regionali di serie C e D. Quali sono gli atleti, i tecnici, i dirigenti, gli arbitri e le società premiati nell'evento di domenica 9 settembre. E poi vi prepariamo alla nuova stagione che è ormai alle porte. Non mancheranno le news e lo sguardo ai campionati nazionali. Tutto questo nel nuovo ed avvincente numero di Piemonte Vole Online. Il Volei vive qui!